Questa conferenza è una conferenza internazionale che è la principale dell'American Concrete Association e è una conferenza che richiama persone da tutto il mondo, nel comitato di programma ci sono scienziati che provengono da 15 nazioni diverse e richiama ricercatori sia dall'industria che dalle università in un mix molto importante per le ricerche nell'ambito dell'ingegneria perché le ricerche dell'università devono sì essere trasferite verso le imprese ma è dalle imprese che arrivano le sfide per le ricerche che vengono svolte nei laboratori universitari. Il program chair di questa conferenza è il professor Luigi Coppola dell'Università degli Studi di Bergamo e hanno deciso di tenere la conferenza qui a Milano per invitare il maggior numero possibile di persone dai diversi paesi del mondo.